Un nuovo modo per prendersi cura di cani e gatti ma non solo. 480 metri con centinaia di articoli e marchi per ogni esigenza degli amici a quattro zampe. E Agripet la nuova realtà imprenditoriale messa su da Massimo Maio, impegnato già da 10 anni nel settore, e da Filippo Martella, anche lui proveniente da un settore simile a Frosolone. Una realtà che in Molise mancava, come hanno detto i due giovani imprenditori. A Agripet infatti offre tante novità, compresa una vetrina interamente dedicata ai cani da tartufo, allevatori e cavatori, prodotti per la zootecnia in generale, per apicoltori e caseifici. A Campobasso mancava in Molise stesso una realtà fatta in un certo modo, e allora quando si è deciso di intraprendere questo passo abbiamo detto o lo facciamo in un certo modo qualificato per settore e spaziato su diverse cose, perché comunque chi ama i cani ama alla fine il giardino e quindi può dedicarsi al pollice verde, detto tra noi, chi ama gli animali d'appartamento o chi ha i cani anche nelle aziende zootecniche, agricole, comunque sia viene qui e trova anche quello che serve per un piccolo caseificio. Nello store, da record con i suoi 480 metri quadri, una novità unica in Molise, un lavaggio self-service per cani e gatti. Per la prima volta a Campobasso finalmente arriva il primo lavaggio self-service per cani e gatti, quindi tutti i proprietari di cani e gatti che hanno difficoltà a lavare i propri amici a quattro zambe a casa possono venire qui e lavare tranquillamente il loro amico a quattro zambe all'interno di un prodotto specifico per il lavaggio e ammortizza anche i costi di quelle che sono le tolettature professionali che comunque hanno dei costi abbastanza elevati. Quindi rispetto a quello che è anche il sentore della crisi abbiamo pensato anche di dare un servizio per far risparmiare la nostra grandela su qualcosa.